Si è presentato alla stampa il nuovo prefetto di Pesero Urbino, teniamo alta la guardia contro il covid, ha assicurato l'impegno per le attività che hanno subito danni a causa della pandemia. Ottiene il reddito di cittadinanza ma vive in Italia saltuariamente, smascherata una donna dalla guardia di finanza di Fano. Entro giugno un milione di vaccinati e l'immunizzazione di massa lo assicura l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini. Passaggi Festival conferma la rassegna con scrittori serbi e albanesi tra gli ospiti Tom Cuca, vincitore del premio dell'Unione Europea per la letteratura. Ecco il container della solidarietà con il materiale per il centro di maternità in Zambia, l'Africa Chiama lancia una raccolta fondi per sostenere le spese di spedizione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai titoli, ieri si è insediato nel Palazzo Ducale di Pesaro il nuovo prefetto Tommaso Ricciardi che succede a Vittorio Lapolla che dopo due anni di servizio a Pesaro è stato destinato ad altri incarichi a Roma. Ricciardi questa mattina si è presentato alla stampa. C'era per noi Angelica Panzieri. Da Trapani a Pesaro, una città che non conoscevo ma il primo impatto che ho avuto è stato favoloso soprattutto nei confronti di questo palazzo che mi ospita, una delle prefetture più belle d'Italia. Ha esordito così questa mattina, di fronte alla vasta platea di giornalisti, il nuovo prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, insediatosi ieri nel Palazzo Ducale di Pesaro in Piazza del Popolo. Prima di lui Vittorio Lapolla che dopo due anni di servizio a Pesaro è stato destinato ad alto incarico a Roma. Ricciardi ha voluto ringraziare pubblicamente il suo predecessore perché qui funziona tutto, ha dichiarato alla stampa un grazie val collega Lapolla per come mi ha fatto trovare la struttura. Nato a Caserta nel 1957, sposato con tre figli, Ricciardi, proviene dalla prefettura di Trapani. Laurea in legge entra in amministrazione nell'ottobre del 1979, assegnato all'allora Direzione Generale della Protezione dei Servizi Antincendi, dopo aver ricoperto una serie di prestigiosi incarichi, nel marzo 2019 il Consiglio dei Ministri lo nomina prefetto, destinandolo a svolgere le relative funzioni nella provincia di Trapani. Ora il nuovo incarico a Pesaro. Il primo impatto è stato meraviglioso, una bellissima città, la piazza che ospita il Palazzo Ducale è un, ho sempre detto sin dal primo momento, mi sembra una bomboniera. Dobbiamo cercare con tutte le nostre forze e con una sinergia tra le varie istituzioni, perché io amo lavorare molto di squadra. Dobbiamo cercare di mettere queste attività, questi soggetti in condizioni di ripartire. Ovviamente la parte preponderante, la parte più importante, la sta facendo il governo, che ha licenziato finalmente il piano Ristori e quindi fare in modo che queste persone possano ripartire con gli aiuti dello Stato e non incappare in problematiche che sono legate purtroppo a fenomeni di delinquenza o meglio più che delinquenza criminalità come estorsione, usura e quant'altro. La guardia va tenuta alta perché siamo memori dell'ultima, della precedente estate, che sì, è stata un'estate da liberi tutti, ma poi già a settembre abbiamo incominciato a pagare purtroppo lo scotto di questa eccessiva euforia. Vero è che rispetto all'estate scorsa siamo già messi meglio perché il piano vaccinale sta andando molto bene, d'intesa con le forze dell'ordine, con le forze di polizia ma anche con il sindaco. Abbiamo deciso di fare in modo che la guardia resti alta. A Pesaro lo stesso prefetto porterà avanti gli impegni del suo predecessore come quello di aprire Palazzo Ducale alle visite di cittadini e turisti. Questa iniziativa che lui ha inaugurato sicuramente io la perseguirò, anche migliorandola, allargando magari la platea dei beneficiari di questo bellissimo palazzo perché credo che a partire dai pesaresi tutti dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze culturali, artistiche di questa provincia, di questo territorio. Quindi sicuramente continuerò in questo solco. La guardia di finanza di Fano ha smascherato una donna che percepiva il reddito di cittadinanza ma viveva in Italia assaltuariamente. Ora dovrà restituire tutto. Ha dichiarato di risiedere in Italia da almeno 10 anni e di abitare in un comune della provincia pesarese da almeno 2 e invece viveva in Italia assaltuariamente. Una donna di 68 anni e così finita nei guai per aver inserito falsità nella domanda necessaria al rilascio del reddito di cittadinanza. Un comportamento che le ha permesso di percepire nel 2019 e nel 2020 un importo complessivo di 5.000 euro. A smascherarla sono state le fiamme gialle di Fano che in collaborazione con l'Inps hanno scoperto che quanto dichiarato nell'istanza presentata all'istituto non corrispondeva alla realtà. Infatti la donna e i risultati è scritta per la prima volta nelle liste anagrafiche nazionali il 18 novembre 2009 nel comune di Monteporzio ma 5 anni dopo era stata cancellata per accertamento di irreperibilità. Nel 2017 poi era stata riscritta all'ufficio anagrafe di Fano ma ad un indirizzo che in realtà era il luogo in cui avrebbe dimorato per soli due mesi per assistere alla proprietaria. Terminata l'esigenza la 68enne aveva lasciato definitivamente la casa ma senza provvedere alle dovute variazioni negli uffici comunali preposti. Dunque non avendo i requisiti per beneficiare dell'intervento di politica sociale la donna è stata segnalata sia all'autorità giudiziaria per aver percepito indebitamente le erogazioni a danno dello Stato sia all'Inps per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata. E anche la città di Fano ricorda con commozione la regina della danza italiana Carla Fracci. Morta a Milano all'età di 84 anni dopo una lunga malattia la Fracci era stata ospite nell'aprile 2008 al Fano Yacht Festival. Aveva fatto visita al salone nautico dell'Adriatico accompagnata da Luciano Cecchini oggi presidente provinciale di Federalberghi e da Luciana Tranquilli titolare della profumeria Taussi. L'occasione era nata dalla presentazione che la Fracci aveva fatto della sua nuova linea di profumi Carla Fracci Parfum dedicati ai suoi balletti più famosi come Salomé, Odette, Giselle e Hamlet proprio nel negozio di Luciana nel centro storico di Fano. Attività che in esclusiva per la provincia di Pesero Urbino aveva tenuto la linea estetica della Fracci. Adesso la sanità. Le marche registrano un altro decesso legato al coronavirus. Si tratta di una donna di 91 anni residente nel Fermano. I nuovi positivi invece sono 154. Ancora in testa macerate Pesero Urbino con 40 contagi in ciascuna provincia. Negli ospedali ci sono otto ricoveri meno. Il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane invariato mentre scende quello dei degenti in semia intensiva. Ad oggi 52. E con i 500 mila vaccini annunciati dal Ministero entro il mese di giugno si arriverà a un milione di prime dosi e all'immunizzazione di massa. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartine che ha fatto il punto sulla campagna. Al momento sono aperte le prenotazioni per gli over 40 e ci stiamo organizzando per la vaccinazione nelle aziende e nel settore del turismo. Sono convinto, ha detto l'assessore, che per impedire la diffusione del virus sia necessario immunizzare oltre alle categorie fragili anche i soggetti con elevata mobilità sociale. Se entro giugno, ha concluso Saltamartini, arriveremo a un milione di vaccini su un milione e duecentomila persone vaccinabili, a quel punto potremo utilizzare anche criteri diversi e procedere alla vaccinazione a tappeto dai 16 ai 39 anni. In vista dell'anniversario del CB Club Mattei e dell'inaugurazione dell'area formativa, sabato e domenica l'attività vaccinale al Codma di Fano sarà sospesa. Gli utenti prenotati, fa sapere l'area Vasta 1, hanno ricevuto un nuovo appuntamento nelle giornate del 31 maggio e del primo giugno, mediante un sms, al numero di telefono rilasciato in fase di prenotazione. Da domani a Pesaro prenderà il via la Coppa Mondiale di Ginnastica Ritmica, che quest'anno per la prima volta sarà senza pubblico a causa della pandemia. 38 le nazioni partecipanti con 180 ginnaste. Dopo lo stop del 2020 dovuto all'emergenza sanitaria, Pesaro torna alla Coppa Mondiale di Ginnastica Ritmica. Ad ospitare la prestigiosa manifestazione, senza pubblico, per via della pandemia, sarà la Vitrifrigo Arena. Da domani, venerdì 28 maggio, fino a domenica 30, le migliori ginnaste del mondo saliranno in pedana per la dodicesima edizione della Kermess, diventato ormai uno degli appuntamenti più importanti nel circuito internazionale della ginnastica ritmica e che quest'anno, oltre a coincidere con la finale di tutte le tappe di Coppa del Mondo, sarà qualificante per le prossime Olimpiadi di Tokyo. I numeri della manifestazione sono quelli dei grandi eventi, 38 nazioni partecipanti per 180 ginnaste e 350 componenti delle delegazioni. Ci saranno le squadre più forti, dalla Bielorussia alla Bulgaria, da Israele alla Russia, fino alla Spagna, l'Ucraina, il Giappone e gli Stati Uniti. Un grande spettacolo dall'alta valenza sportiva, nel segno del quale ripartirà anche il turismo pesarese. Sarebbe stato un evento, penso, uno dei migliori dei 12 anni, perché abbiamo le migliori ginnaste del mondo, anche perché sono tutte in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo e quindi sono tutte qui presenti e ci sono ancora dei posti per conquistare il pass per le individualiste per i giochi olimpici, quindi è molto interessante. Inoltre è l'ultima delle quattro coppe, la prima volta che noi chiudiamo, per solito noi siamo sempre la prima o la seconda e quindi ci sarà la vincitrice della serie delle coppe del 2021, sia per le individualiste sia per i gruppi. Anche come numeri direi che sono una delle maggiori presenze, sono 18 squadre e abbiamo 70 individualiste, abbiamo 38 paesi ed è uno dei numeri più alti che abbiamo avuto nei 12 anni. Quindi a livello tecnico e di presenza di delegazioni siamo soddisfattissimi, ci dispiace purtroppo che il pubblico non può entrare, però speriamo che ci seguano tutti sull'A7 che domenica farà la diretta e venerdì e sabato avremo lo streaming su YouTube. L'arena si conferma, volano fondamentale per l'economia turistica della città di Pesaro e dell'intero territorio regionale. Lo sport è la prima iniziativa su cui tutti puntiamo dalla Regione Marche, passando per il Comune di Pesaro e noi che abbiamo un contenitore, gestiamo un contenitore così importante, ci stiamo mettendo del nostro massimo. Quest'anno organizzare la Coppa è stato più complicato degli altri anni perché il Covid e la pandemia hanno imposto delle regole molto ferre. Tutti quelli che entrano all'interno dell'arena dovranno essere tamponati, insomma c'è un controllo molto ampio e molto ferreo dal punto di vista proprio della gestione dell'evento. Però come si diceva prima speriamo che sia il sintomo di grande qualità e di ripartenza per il settore turistico che attraverso questo contenitore ha già riempito di fatto le strutture ricettive della città e non solo della città di Pesaro. Incidente fra due auto questa mattina poco dopo le 10 a Senigallia. Una Renault Clio condotta da una 52enne del posto stava procedendo in strada della Marina quando per cause in fase di accertamento si è scontrata con un'altra Renault Clio che proveniva dal senso di marcio opposto ed era guidata da un 19enne della provincia di Ancona. A causa dell'impatto sono rimasti feriti sia i conducenti che un passeggero e sono stati trasportati in ospedale. Nel sinistro è rimasto coinvolto ma senza conseguenze anche un autotreno che proveniva da via Cimabu ed era fermo all'incrocio sul posto due ambulanze, due pattuglie della polizia locale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'aria interessata. Ancora cronaca i carabinieri forestali di Pesaro insieme al personale della regione del comune di Pesaro hanno fatto un sopralluogo lungo le sponde del torrente genica in località Ponte Valle. Il controllo è stato eseguito in vista dei lavori di manutenzione dell'alveo che a causa della presenza di alcuni manufatti abusivi non sono potuti iniziare. I militari infatti hanno notato diverse occupazioni abusive del demagno fluviale da parte di alcuni proprietari delle abitazioni limitrofe. In particolare erano presenti accumuli di rifiuti, recinzioni, piccoli depositi di attrezzi ma anche orti, pollai e addirittura un canile a due piani. In caso di bombe d'acqua hanno spiegato i militari la presenza di questi manufatti impedirebbe il normale deflusso delle acque al punto da innescare fenomeni di rottura degli argini oppure allagamenti mettendo in pericolo la cittadinanza. Ora i responsabili verranno sanzionati per le condotte illecite, tra queste l'invasione di terreni demaniali che è punita dal codice penale e prevede pene fino a due anni di reclusione. Inoltre verranno emesse delle ordinanze di rimozione dei manufatti abusivi ma a spese dei trasgressori. Torniamo a Fanno, la città è pronta a vivere un fine settimana dedicato agli sport d'acqua, 750 le presenze previste in città. Il prossimo servizio è curato da Filippo Pucci. Un'intera giornata dedicata agli sport acquatici, quella di sabato 29 maggio nella città di Fanno. Venderà via infatti, grazie all'Associazione Marinai d'Italia, il club nautico fanese, la Lega Navale e il porto turistico Marina dei Cesari, una full immersion di quella che doveva essere la giornata del mare istituita dal governo per l'11 aprile ma che non si è potuta celebrare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Per recuperare questo appuntamento le quattro realtà si sono unite organizzando per un'intera giornata diversi appuntamenti. Primo tra tutti, la tappa di Costa Rowing, specialità beach sprint della Adriatic Cup. Si tratta di canottaggio costiero, ovvero la versione estrema del canottaggio tradizionale che si svolge in mare o in grandi laghi caratterizzati da vento e moto ondoso. A partecipare nelle acque antistanti in Lido, 200 atleti suddivisi per 18 squadre e provenienti da nove regioni italiane. Doveva essere una manifestazione solo regionale, è diventata una manifestazione nazionale col supporto della Federazione Italiana Canottaggio e col supporto del CONI, inserita a calendario nazionale, quindi di questo siamo fieri. La gara si svolge in questo modo, un tratto di corsa a terra, uguale per tutte e due le squadre, si corre una barca contro l'altra, tratto di corsa a terra, si sale in barca, si voga per 500 metri, si rientra a terra e si corre all'arrivo. Il primo che arriva all'arrivo ovviamente vince e passa il turno e va alla qualifica successiva fino ad qualificarsi per le finali del pomeriggio. In contemporanea, a partire dalle ore 10, prenderanno in largo in flottiglia da Marina dei Cesari tutti i clienti del porto che aderiranno all'uscita in mare amatoriale che dal Faro Verde arriva fino a Fosso Segliore. In caso di maltempo, entrambi gli eventi verranno rimandati al giorno seguente. Un weekend che porterà 750 presenze per un'attività sportiva di canottaggio e per la possibilità di vivere al mare a 360 gradi con anche altre esperienze, delle uscite in mare e altre programmazioni. Devo dire una bella collaborazione tra l'assessorato a turismo e anche l'assessore allo sport Barbara Brunori. È un progetto molto importante per la città. E torniamo a parlare delle soste a pagamento sul lungomare di Fano perché oggi l'amministrazione comunale ha annunciato un abbonamento agevolato per le strutture ricettive situate in Viale Spuntini, Viale Cairoli, Piazzale Amendola e Viale Adriatico. In sostanza le strutture ricettive verrà rilasciato un numero di permessi dal costo di 40 euro ciascuno proporzionale al 10% dei loro posti letto. Intanto l'Udc che chiede lo stop immediato dei parcheggi a pagamento ha organizzato un banchetto per la raccolta firme. L'appuntamento è per sabato dalle ore 9.30 sotto l'attenso struttura di Sassonia. Il lungomare di Pesaro invece ha ottenuto anche quest'anno la bandiera a blu per via delle acque pulite. Ieri mattina si è svolta la cerimonia per rissare il vessillo. Per il diciassettesimo anno consecutivo la bandiera blu sventola nel lungomare Pesarise per via delle sue acque belle e pulite. Ieri mattina la cerimonia per rissare il vessillo di fronte al ristorante Moletto alla presenza dell'assessore all'ambiente Aidi Morotti e del vice sindaco Daniele Vimini. La bandiera blu è stata consegnata ai 56 stabilimenti balneari di Ponente, Levante e Sottomonte. Ora, come obiettivo, rimane quello di Baia Flaminia che non è riuscita nemmeno quest'anno ad ottenere riconoscimento. La bandiera blu, ormai ci siamo quasi abituati ma non è un riconoscimento così scontato. Basta vedere in giro per l'Italia, anche in un anno complicato come quello che abbiamo passato, diverse località l'hanno persa, tante località della Toscana. Quindi insomma, a riprova che non è un rinnovo automatico, una cosa che sarà per scontato ma che è un obiettivo che si raggiunge grazie allo sforzo di tutti, di chi si occupa della qualità delle acque, sia a livello amministrativo ma anche delle abitudini dei cittadini. Il risultato ottenuto negli anni grazie ai progressivi allacci al depuratore, insomma tante politiche che fanno in modo che la bandiera blu possa sventolare e garanzie della qualità delle acque e anche dell'accoglienza turistica perché poi i vari parametri che vengono presi in considerazione non riguardano solamente la qualità delle acque, che ovviamente è il primo dato fondamentale, ma tutta una serie di elementi, dei servizi, l'accoglienza, le politiche ambientali integrate, a tutto quello che insomma in questi anni abbiamo cercato di sviluppare per cui Pesaro si sta finalmente negli ultimi decenni caratterizzando. Rimane l'obiettivo di Baia Flaminia, se l'abbiamo fatta quest'anno a riconquistare la bandiera blu in Baia Flaminia, lì è un tema lungo perché poi non basta un anno o due di dati buoni, se ne vogliono almeno quattro, insomma è un percorso lungo, però anche lì i dati si danno in crescita e miglioramento dei vari parametri a partire proprio dalla qualità delle acque, non ci sono state l'anno scorso giornate di vieto di balneazione che a volte capitano, come immaginate, alla Fosse del Foglia, quindi un trend positivo anche lì che ci fa essere ovviamente molto felici. Anche quest'anno ci confermiamo come spiagge accoglienti, acqua pulita, mare buono, servizi adeguati sia alle famiglie che ai più giovani, insomma per tutte le fasce d'età, quindi invitiamo tutti a venire al mare e godetevi questo nostro bel litorale. E per il terzo anno consecutivo Passaggi Festival conferma la finestra sulla letteratura balcanica, tra gli ospiti spicca il nome di Tom Cooke, vincitore del premio dell'Unione Europea per la letteratura. Pagine di libro come un ponte sul mare, si chiama Europa Mediterraneo, la rassegna con la quale Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica in calendario a Fano dal 18 al 25 giugno, apre anche quest'anno una finestra sulla letteratura balcanica. Quattro le presentazioni librarie, tutte in programma dalle 23 alla mezzanotte, nell'ex chiesa di San Francesco, monumento a cielo aperto nel centro storico della città. Questa è una rassegna che guarda soprattutto agli scrittori, alle autrici, agli autori dei Balcani, ma non solo. Quest'anno avremo tre scrittrici e uno scrittore, due serbe e due albanesi. Il nome su cui cade l'attenzione è quello di Tom Cooke, uno scrittore albanese. Tom Cooke tra l'altro spesso è in Italia, perché Cooke pochi giorni fa ha ricevuto uno dei premi letterari più prestigiosi che ci sono in Europa, che è il premio dell'Unione Europea per la letteratura. Quindi per noi è un onore portare a Fano, tra l'altro presentiamo il libro in anteprima nazionale, portare a Fano Tom Cooke. Altro incontro significativo, prosegue il direttore del festival, sarà quello del 22 giugno con Vera Bekteishi, scrittrice settantenne nata a Tirana, che racconterà una storia drammatica. Racconta la sua prigionia, la storia della sua famiglia, della sua prigionia durante la dittatura di Enverogia. Quindi una storia particolare e interessante. Il 23 giugno, sempre dalle 11 a mezzanotte, avremo una scrittrice serba, Tatiana Simic, che racconta una storia d'amore, racconta una storia d'amore tra un ragazzo serbo e una ragazza albanese. Quindi, diciamo così, un Romeo e Giulietta nei tempi moderni, nella sanguinosa guerra della Jugoslavia e dei Balcani. Il 24 ci sarà Tom Cooke con L'ora del male. E il 25 giugno chiude questa rassegna di narrativa e di saggistica, perché sono anche libri biografici, come abbiamo visto quello della Bekteschi, ma anche questo di Marina Lalovic, si intitola La Cicala di Belgrado. Marina Lalovic è un nome che probabilmente a qualcuno è già noto, perché Marina Lalovic è una conduttrice di Rai Radio 3 e giornalista anche di Renews 24. Parla e ritorna alla sua città, Belgrado. Quindi ecco, una piccola rassegna, non voglio dire una rassegna di nicchia, però sicuramente per chi ama incontrare in questi orari anche molto particolari scrittori che sono tra i più affermati in Europa. E l'Africa Chiama ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese di spedizione del container che partirà con tutte le attrezzature necessarie per il nuovo centro di maternità in Zambia. Partirà da Fanno nel mese di giugno il container della solidarietà, una spedizione per arredare e attrezzare il nuovo centro di maternità Shalom in Zambia, l'ultimo grande sogno desiderato e progettato dal fondatore dell'Africa Chiama Italo Nannini. Una risposta concreta e mirata per migliorare la salute materno-infantile in un contesto dove ancora oggi 9 donne su 10 partoriscono in casa e dove su una popolazione di oltre 350.000 persone esiste soltanto un reparto di maternità. Era proprio il luglio del 2019 quando è stata l'occasione della messa in posa della prima pietra del centro di maternità che è sorto a Kaniama, un quartiere periferico della città di Lusaka in Zambia. Il progetto ormai è completo nella costruzione, quindi ospiterà 16 posti letto e quindi consentirà alle donne di Kaniama di partorire in un luogo sicuro. Terminata appunto la parte della costruzione, adesso siamo nella fase dell'allestimento degli interni e degli arredi e di tutte le strumentazioni biomedicali necessarie al centro di maternità. Grazie anche al coinvolgimento dell'amministrazione comunale, dell'azienda Marche Nord, della Croce Rossa, di alcuni studi medici e delle farmacie di Fano abbiamo reperito tanto materiale che ora siamo pronti a spedire tramite un container. Si tratta di una grande impresa, il costo della spedizione sarà di 10.000 euro, una cifra importante che l'associazione potrà raggiungere con tanti piccoli aiuti. Ognuno di noi può fare la differenza, la realizzazione di questo centro di maternità è stata letteralmente una gara di solidarietà che è iniziata nel 2019 e che ora arriva quasi alla conclusione. Ci mancano, possiamo dire letteralmente, gli ultimi 12 metri di questa gara perché 12 metri sarà la lunghezza del container. Tante persone generose e sensibili ci hanno aiutato a riempirlo fisicamente, quindi donandoci materiale ed attrezzatura. Ora l'appello che noi facciamo a tutte le persone è quello invece di contribuire per il costo della spedizione del container. Vi invito quindi a partecipare, davvero ognuno come può e nelle sue possibilità, appunto facendo una donazione all'associazione, inserendo nella causale container per lo Zambia. L'indito è anche quello di aggiungere, per chi lo volesse, una foto, un bigliettino, un'immagine, un disegno, una lettera, perché noi allestiremo all'entrata della maternità una grande bacheca nella quale appunto affiggeremo tutti questi messaggi di solidarietà e di amicizia che le persone che avranno fatto la donazione appunto ci invieranno. Le inseriremo proprio fisicamente all'interno del container, faranno il viaggio insieme al container da Fano fino all'Usaka in Zambia e là appunto potranno essere in qualche modo il segno concreto di vicinanza delle tante persone che hanno reso possibile questo grande sogno. Questa era l'ultima notizia, tra poco trasmetteremo un approfondimento dedicato a impronte femminili, una rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità e i diritti umani. Grazie per la vostra attenzione e grazie anche per aver scelto di guardare il nostro telegiornale Occhio alla notizia e arrivederci a domani.